allora intanto ciao a tutti ragazzi stavo appena girando un video con il telefono perché ho la GoPro in assistenza diciamo e mi rendo conto che al posto di essere partito il video è partita la fotocamera non vi posso negare che le bestegni che sono partite sono tante mi hanno sentito fino in piazza Venezia e quindi rifaccio il video non lo rifaccio lungo come prima col cavolo e solo per farvi vedere insomma che questa è la moto che è completamente stata sventrata e spogliata di ogni suo quasi ogni suo componente principale maronna sul muro usciranno dei video del mio canale a casaccio perché internet fa schifo perché purtroppo la connessione è quella che è ma confido nel riprendermi alla grande e cacciar fuori video a manetta sperando che qualcuno guarda in giù per darmi una connessione decente perché non so più cosa fare ecco il video ci conclude qua iscrivetevi al canale guardate state sintonizzati perché usciranno dei video veramente cazzuti ma soprattutto fate qualcosa per far passare a st'inverno perché non vedo l'ora di riattivare l'assicurazione perché è da una settimana che non tocco la moto oggi che è sabato mia nonna oggi che è giovedì 26 nove in ottobre non è a zq una stasera e in più mi arriva anche una zanzara in faccia è una settimana che non tocco la moto sto impazzendo io non ce la faccio più e come potete vedere la vespa di mio fratello non è pronta perché sta verniciando i cerchi quindi non posso fare neanche dei giritti in vespa diciamo che sono abbastanza non so cosa succederà prima della fine dell'inverno però io impazzisco senza la mia moto che tristezza che amarezza ciao a tutti i ragazzi restate sintonizzati mi raccomando